ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il primo piano arte politica culture attualità tra umbria e toscana questa sera ci occupiamo di scuola ci sono in queste settimane gli open day per favorire l'accesso ai servizi delle scuole del nostro territorio da parte delle famiglie degli alunni e che dire questa sera credo che mi smentiranno le mie ospiti ma posso dire con una certa una qual certa certezza che dal 1752 le maestre vie di san sepolcro perdonatemi si occupano di formazione dei nostri ragazzi e abbiamo la dirigente o preside chiara andreni e una delle maestre di la regnassi sbaglio se dico che la scuola più vecchia è la scuola più antica di san sepolcro è vero della valtiverina questo non lo so dovremo dovremo indagare però sicuramente io direi dal 1752 come istituto è attivo a san sepolcro all'inizio proprio per la formazione delle giovani e delle ragazze quindi era una scuola orientata alla formazione delle donne e sappiamo quanto in quel periodo ce ne fosse bisogno perché le donne erano un po ai margini della della società e poi invece dagli anni 70 si è aperta anche ai ragazzi è una scuola dell'infanzia abbiamo una scuola dell'infanzia la scuola primaria quindi copriamo la fascia dai 3 ai 10 anni tutta all'interno dello stesso edificio che si trova in centro a san sepolcro un edificio storico completamente ristrutturato e migliorato sismicamente proprio per andare incontro alle esigenze anche di sicurezza del nostro territorio e dei nostri bambini e allora cerchiamo anche di capire in questa puntata qual è l'offerta formativa della scuola maestre piedi e san sepolcro intanto si inizia con la scuola d'infanzia a tre anni quindi i bimbi arrivano già si fanno una qual certa idea si fa tutto il percorso e poi ci sono le elementari Ilaria Agnassi è una di quelle maestre che formano il corpo docente esatto io mi chiamo Ilaria Agnassi e sono la maestra di seconda elementare e la scuola maestre pie ha cinque classi quindi una prima una seconda una terza una quarta una quinta e come ci definiamo noi siamo una grande famiglia questo ci permette di anche avere un team docenti molto unito e molto collaborativo e ci permette anche di svolgere progetti insieme ad altre classi una prima una quinta una seconda una terza e essendo proprio un centro storico a proposito di progetti ci permette anche di aderire alla maggior parte delle iniziative presenti nel nostro territorio insomma a piedi bambini si spostano molto bene si spostano infatti si vede sto cordone che gira tra l'altro ci sono anche delle persone che conosco ma non ne possiamo parlare questa sera allora dicevo l'offerta formativa chiara molto importante è l'aspetto dell'educazione di questi bambini voi ci tenete c'è un vero e proprio sbaglio si dico protocollo si è troppo buro burocratese va bene si può si può dire anche se come dire noi cerchiamo di passare proprio i nostri principi e l'educazione dei bambini fin dalla scuola dell'infanzia attraverso le pratiche quotidiane attraverso il gioco attraverso lo stare insieme però proprio dando a questi aspetti l'importanza che hanno perché prima di tutto dobbiamo formare dei cittadini e poi come dire dobbiamo istruirli però per noi la cosa più importante e sulla quale come dire ci battiamo anche proprio come formazione come insegnanti è proprio quella del dell'educazione perché poi da lì passa tutto se si sta a scuola bene se ci si sta volentieri se si è corretti se i comportamenti sono quelli consoni se si sa giocare insieme poi passa anche tutta la parte della dell'apprendimento con molta più facilità e la nostra scuola per dare come dire alcune indicazioni di massima la scuola primaria noi attuiamo le 27 ore settimanali quindi significa scuola dal lunedì al venerdì più o rientro pomeridiano per classe e fin dalla prima abbiamo tre ore di lingua inglese anche questo aspetto è un aspetto per noi caratterizzante io ho fatto le maestre pie negli anni 80 perché ormai sono grandina e già a quei tempi la scuola maestre pie era l'unica scuola che offriva l'insegnamento della lingua inglese quindi è sempre stato questo un fiore all'occhiello abbiamo un insegnante specializzata proprio nell'insegnamento della lingua perché crediamo fermamente che fin dall'infanzia i bambini debbano essere esposti a questa lingua che diventa per noi sempre più essenziale ed importante logicamente per a gradi nel senso che all'infanzia l'inglese presentato sotto forma di storie di pilastrocche di giochi poi si inizia invece l'apprendimento vero e proprio della lingua fino ad arrivare alla quinta della primaria in cui i bambini fanno la prima certificazione della conoscenza della lingua inglese attraverso il british institute quindi è proprio una certificazione riconosciuta e questo è un traguardo per le nostre classi importanti è un vero e proprio esame in cui vengono dei docenti esterni a verificare il loro stato di apprendimento della lingua. Ilaria c'è anche un filo logico che lega i ragazzi nei vari percorsi cioè partendo dai dai tre anni fino alla quinta elementare cioè è proprio un percorso graduale fatto di step che gli aiuta a non rimanere in difficoltà. Lo vogliamo anche spiegare per chi ci vede? Assolutamente già la nostra scuola si predispone essendo un istituto unico un edificio unico ci permette di far usufruire i bambini dai tre anni fino alla quinta primaria degli stessi spazi. La mensa comunque già i bambini dell'infanzia la conoscono per poi arrivare in quinta che vanno nei cosiddetti come li chiamano loro sedie da grandi nei cosiddetti tavoli da grandi. I bagni sono gli stessi così come gli spazi esterni sono divisi ma comunque l'ambiente è lo stesso e questo un filo il filo rosso che lega un po' tutto è l'autonomia fin dalla terra fin dai bambini tre anni cerchiamo di abituarli a essere più autonomi possibile per poi arrivare in quinta e essere pronti a fare il grande passo delle scuole superiori e delle scuole medie. C'è anche una forte interazione tra le maestre della primaria Chiara e le maestre della scuola d'infanzia. C'è il velo che c'è molta collaborazione, molta interazione, molto scambio di informazioni. Sì perché voi dovete pensare che noi come dire come corpo docente siamo in tutto 15 elementi quindi anche i nostri collegi docenti tutti insieme ci riuniamo praticamente siamo poco più siamo come una classe e questo permette una programmazione proprio comune. Abbiamo proprio dei progetti continuità che fanno da filo rosso tra l'infanzia e la primaria e che permettono ai bambini di apprendere anche supportati dai loro compagni più grandi un po' come una sorta di tutoring di modelli più grandi e questa è una cosa molto bella sia per i ragazzi di quinta che si trovano a leggere le storie ai bambini che andranno a comporre la nuova classe prima ma sia anche per i bambini della scuola dell'infanzia perché il passaggio alla scuola primaria per loro diventa sempre più facile. Vedono già quello che gli aspetta sia che scelgano di rimanere nel nostro istituto sia che decidano di iscriversi in altre scuole. Molto importanti sono anche i laboratori che fate credo quotidianamente anche con uscite per cercare di far vivere ai bambini e alle bambine la natura in tutti i suoi aspetti. So che ci sono stati delle piccole escursioni per vedere come nasce l'olio che tra l'altro è la buonissima. Dico per cercare proprio di renderli partecipi. Assolutamente. Noi cerchiamo sempre di applicare alla didattica in classe quindi seduti con le lavagne che può essere la limme che è la lavagna tradizionale cerchiamo sempre di affiancare uscite didattiche, uscite nel territorio, laboratori appunto nei quali i bambini sperimentano in prima persona quello che poi viene studiato nei libri e ho scritto nei quaderni. Questo permette prima di tutto di essere sicuramente più interessanti quindi di catturare maggiormente la loro attenzione e poi proprio di renderli pratici. Quindi ecco non solo cercare di istruirli, insegnarli a leggere o a scrivere ma proprio anche nella vita quotidiana sapere di cosa stiamo parlando. Altro aspetto importante è la musica Chiara. Ho avuto il piacere di avere Riccardo Ricci quasi a me e mi ha detto che lui è stato un allievo del maestro Mirko. Tant'è che sto ragazzo sinceramente mi ha stupito perché al secondo, ai miei tempi si chiamavano lp. Ora so che loro hanno delle piattaforme dove vengono scaricati i file, però ha tante visualizzazioni. La musica è un aspetto importante della formazione didattica delle maestre pie. Perché? Allora prima di tutto perché la musica è, come dire, avvicina veramente come l'arte in generale io credo eleva la persona e quindi questo è già una educazione al bello e ne abbiamo tanto bisogno noi come grandi e ne hanno bisogno anche i bambini. Fin dall'infanzia i bambini imparano a giocare con la musica, a muoversi a tempo di musica e a cantare in coro. Il coro per noi è uno strumento fondamentale perché unisce tutti, tutti cantano, quello che è più bravo e più talentuoso e magari farà poi anche, ne farà anche un mestiere nella vita come quello che è meno bravo, ma insieme si riesce ad avere un risultato io direi eccellente. I nostri bambini quando cantano, tutti i bambini della... Perché gli stiamo muovendo? Eh, perché effettivamente io quando li sento cantare, dico la verità tante volte proprio, provo questa emozione perché li vedi uniti insieme, i piccoli e grandi, quelli più bravi e quelli meno bravi e il risultato è qualcosa di straordinario. E poi i bambini sono felici di cantare. Questa io credo che sia un aspetto veramente molto bello. Tante mamme dicono finalmente il mio figlio canta, canta tutto il giorno le canzoni della recita. E queste sono cose, credo, belle, momenti importanti. Un po' meno per l'udito, però c'è cosa dire, nel senso che la butto la piano. Bene, perfetto, sono felice. Importante, credo, sia anche il numero degli alunni, perché credo che si vada fino ad un certo qual numero, dopodiché la classe non può più ricevere iscrizioni. Questo per quale motivo, Ilaria? Allora, le classi effettivamente sono delle classi con dei numeri abbastanza ristretti. Partiamo da 12, 15, 17, fino ad arrivare a 22. Questo ci permette di lavorare e dare il giusto tempo ad ogni bambino. Ci permette proprio di concentrarsi e valorizzare ogni aspetto. Questo proprio perché avendo pochi bambini, ma avendo più tempo, riusciamo a dare la giusta attenzione veramente a tutti. Nessuno rimane indietro, ogni bambino ha il suo tempo ed è giusto che lo mantenga, ma questo a noi non ci permette di avere dei grandi dislivelli. Anzi, è un valore aggiunto. Tutti i bambini, essendo una classe piccola, riescono ad adattarsi anche alle varie esigenze degli altri. E questo è importante. Questione importante, credo, sia anche quella della religione. Perché questo lo dobbiamo dire, è una formazione cattolica. Sì, la nostra scuola nasce come scuola delle maestre pie, poi negli anni, purtroppo a causa anche della mancanza di vocazioni, delle difficoltà che tante congregazioni religiose hanno affrontato, dal 2010 le suore hanno lasciato l'istituto. E l'hanno lasciato ad una cooperativa laica, fatta da laici, che si è occupata della formazione, sempre però nel segno e tenendo fede ai principi di Santa Rosa. Il nostro motto è educare per liberare. Quindi è proprio un augurio di liberare le persone, quindi attraverso l'educazione, attraverso la formazione. La proposta è una proposta cristiana, quindi noi festeggiamo la Pasqua, festeggiamo tutte le ricorrenze religiose, dando il valore di ricorrenza religiosa e quindi anche proprio proponendo dei momenti e degli spunti di riflessione. Bambini, in questo periodo ci stiamo preparando al Natale e stiamo facendo la preghiera alla mattina dell'Avvento. E questi sono segni, credo, importanti. Alcune famiglie proprio ce lo chiedono e sono contente che vengano curati anche questi aspetti proprio religiosi e di pratica religiosa. Nel Campanello c'è scuola, maestre pie. Ci sono le maestre pie in quell'edificio? No, hanno mantenuto un appartamento all'interno dell'edificio. Non ci abita nessuno. Non ci abitano più, no. O il terrore di sbagliare perché magari rispondo. Allora, quello che vorrei cercare di capire, poi parleremo degli Open Day e a che cosa servono gli Open Day. Altro aspetto importante è la qualità del cibo offerto ai bimbi alla mensa. Su questo credo di aver capito solo prodotti biologici a chilometri zero. Sbaglio, Ilaria? Assolutamente. Noi abbiamo, come appunto ha detto, la cucina interna, quindi abbiamo la nostra cuoca che prepara cibi veramente con prodotti veramente a chilometro zero. Quindi cerchiamo anche di sfruttare, usufruire delle risorse presenti nel nostro territorio. E questo permette anche di dare una qualità maggiore. I bambini, insomma, si fermano tutti. Quindi la risposta è più che positiva. E' vero che hai insegnato anche a far l'orto, i bimbi? Sì. Allora loro coltivano e mangiano dopo i prodotti, no? Insegnato a far l'orto come laboratorio. Come laboratorio, sì. Sì. E noi abbiamo un cortile interno che è circondato dalle mura e dà una bellissima vista perché siamo tra il campanile del Duomo e il campanile di San Francesco. E questo ci permette di avere anche questo spazio nel quale la scuola dell'infanzia ha posizionato un piccolo orto verticale proprio per dare la possibilità ai bambini di vedere l'alternanza delle stagioni e delle tipicità stagionali. Poi qualche assaggino ci scappa, però ecco, è veramente molto, molto, molto piccolo. Facciamo poi dei progetti anche con gli orti sociali, che sono una bella realtà di Sansepolcro, vicina alla nostra scuola e quindi lì i bambini vanno in visita e comprendono anche proprio come si tiene un orto un po' più, come dire, un pochino più grande rispetto al nostro. Però anche questo è sempre per, come dire, si conosce e si apprende attraverso il saper fare. Diamo tanta importanza anche a questi aspetti laboratoriali perché ogni bambino ha il suo modo di apprendere. C'è chi apprende e predilige un canale e chi ne predilige un altro e quindi anche il saper fare è veramente importante. Vogliamo parlare allora anche di questi laboratori, Ilaria? Perché non solo laboratori che riguardano magari il cibo, no? Ma anche i laboratori che riguardano le arti e i mestieri. Assolutamente. Noi ad esempio stiamo facendo un progetto insieme alla società Bali Esteri di Sansepolcro nei quali i bambini costruiranno, stiamo costruendo la nostra bandiera che poi gentilmente il Presidente verrà ad insegnarci a sbandierare, utilizzarla per poi presentarci nella settimana abiturgenza a settembre insieme ai sbandieratori che invece lo fanno insomma tutto l'anno, che si esercitano tutto l'anno e questo è sicuramente una grandissima opportunità anche ai bambini stessi per scoprire veramente Sansepolcro cosa offre al di fuori anche della scuola. Tu sei una pallabolista o hai appeso le ginocchiere al chiodo? Le ho appese ma sono pronta a riutilizzarle. Quindi sei in cerca di squadra. Sì. Il procuratore ancora non ti ha... No, ricordiamo che sei stata centrale nella pallavolo città di Castello. Sì, io nasco a Sansepolcro in Serie D per tantissimi anni per poi gli ultimi due anni essere... Toccare a città di Castello. Il rapporto con lo sport per quanto riguarda l'istituto delle maestri qui? Allora, noi offriamo ai nostri bambini varie attività abbiamo degli insegnanti di basket, facciamo dei piccoli progetti con il tennis, dei progetti con il tedamis e questo ci permette di ampliare ancora di più anche la scelta per i bambini anche nel dire che sport mi piacerebbe fare. Ecco, noi cerchiamo di farne vedere alcuni per poi anche magari ci piacerebbe che continuassero al di fuori. Abbiamo una maestra interna che fa yoga tutti i giovedì e questo è un altro lato che ai bambini piace molto proprio perché scoprono dentro di sé veramente delle emozioni e delle cose che magari non pensavano o non ci hanno mai fatto. Quindi vi spieghi come funziona il giocchino dello yoga, mi interessa. Non sono io la maestra che lo pratica, quindi posso dire... Ma lo vedi? Sì, allora si parte dai più piccoli fino ai più grandi comunque sia dai movimenti del corpo, quindi scoprire il proprio corpo per poi arrivare alla fine della lezione con silenzio, buio e una musica di sottofondo, i bambini si rilassano e lì qualche bambino si è iniziato anche a piangere proprio perché magari in quella situazione si è sentito come svuotare, no? Perché magari noi chiediamo tanto ai nostri bambini chiediamo di essere sempre pronti, sempre solattenti a volte invece riuscire a calmarsi, a fermarsi, a pensare, ad ascoltare è importante. E quando c'è il momento del silenzio, è il silenzio totale per tutti o c'è qualcuno che... No, no, è questo il bello, è il silenzio totale per tutti. Beh, verrò anche io per cercarmi... Volentieri. Allora, mi interessano i lavoratori con i, perché so che nel corso di questi anni anche arti e mestieri, per far conoscere chiara agli alunni le varie forme di artigianato che offre Sansepolcro, no? Siete stati molto spesso nel Museo della vetrata, ma anche... Spiegani te. Sì, allora, noi partecipiamo, come abbiamo detto, molto volentieri. Cerchiamo veramente... Vorremmo che i nostri bambini fossero proprio immersi nella società di Sansepolcro e nel territorio e quindi abbiamo molto spesso, anche quest'anno, la scuola dell'infanzia, riproponiamo il laboratorio del vetro perché è un'esperienza molto bella e che gli aiuta veramente a capire cosa significa progettare. Partono con un disegno che poi devono, come dire, rimettere insieme attraverso delle piccole tessere di vetro e questo quindi gli insegna proprio ad avere un progetto e ad arrivare poi alla, come dire, soluzione finale. Come rispetto agli arti e mestieri, l'anno scorso, per esempio, la nostra classe quarta ha partecipato al concorso della Banca d'Italia Inventa una banconota e questo è stato lo stimolo proprio per fare tutto un lavoro sul denaro e anche questo è stato una cosa molto interessante perché hanno avuto a disposizione un piccolo budget, dovevano pianificare delle spese, quindi decidere a cosa dare priorità, se allo sport, ai vestiti, ai giochi e gli ha insegnato quindi anche a capire che cosa significa risparmiare per poi avere magari qualcosa in più nel futuro. La nostra scuola è stata finalista ed è arrivata tra le prime tre scuole d'Italia quindi è stato anche un bel riconoscimento. Mi toglie una curiosità, la priorità qual è stata? La priorità per i bambini per tantissimi è stato lo sport Sì, perché tutti praticano sport e ne sentono sinceramente si vede anche dopo il lockdown il bisogno. Prima della pausa, Ilaria, vorrei cercare di capire parlavi di basket, di tennis, però so che voi interagite con tutte le realtà sportive Assolutamente, noi comunque sicuramente abbiamo un salone che la nostra palestra ci permette di fare determinate attività se non sbaglio andremo anche a nuoto quindi andremo anche nella palestra Alter Ego i bambini di terzo e di quarta, se non erro praticheranno anche nuoto una volta a settimana e ripeto, basket, tennis, ma comunque siamo aperti a qualsiasi attenzione a qualsiasi altro sport che si possa praticare in ambienti chiusi noi siamo ben fredditi Quindi anche padel Diciamo che ecco Perché calcio no? Calcio no Perché si pratica all'aperto? Perché si pratica all'aperto Allora ci fermiamo per un attimo di pubblicità e poi nella seconda parte parleremo degli open day ma anche di come siete riusciti a passare questi due anni di pandemia pubblicità Ben ritrovati Seconda parte di In Primo Piano Arte, politica, cultura, attualità tra Umbria e Toscana Questa sera parliamo di scuola e lo facciamo con le maestre Piedi Sansepolcro non la scuola elementare maestre Piedi Sansepolcro perché credo io avrei fatto un errore e ho indotto l'errore anche te come me lo dici di preciso? La scuola primaria maestre Piedi e la scuola dell'infanzia L'errore maestra Ilaria Chiedo perdono Allora Anche un laboratorio di informatica? Sì abbiamo anche un laboratorio di informatica nella nostra scuola e ogni anno cerchiamo sempre di modernizzarlo il più possibile in ogni classe abbiamo sia accanto alla lavagna tradizionale abbiamo anche la lavagna multimediale che è molto importante perché come dire aiuta soprattutto per alcuni approfondimenti disciplinari e poi anche il canale visivo è un canale che permette ai bambini di apprendere con più facilità Il nostro laboratorio di informatica noi lo usiamo soprattutto per le classi terza, quarta e quinta perché in prima e in seconda diamo priorità soprattutto alla lecto scrittura e quindi è quella gli aspetti Gli elementi disciplinari vanno nella lib? Eh? No Ah no Quando facevo l'elementaria c'era la lavagna so se c'è sempre la lavagna Sì 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 Aveva diciamo c'era un po' di spazio tra la lavagna e il muro dietro la lavagna ci andavano i cosiddetti sommari Il mio babbo mi diceva no piccola digressione che quando faceva l'elementaria lui sotto la lavagna c'erano i ceci e ti dobbete sai te come sono cambiati Sono cambiati E ti dobbete mettere in ginocchio se facevi conclusione e un aneddoto tanto per avevano un bastoncino di bambù che era lunghissimo e riusciva a beccare anche l'ultimo della classe Sì diciamo che adesso cerchiamo di dare spazio all'accoglienza e soprattutto anche a un insegnamento Quindi la lì che serve per interagire con gli alunni Facciamo un esempio Ad esempio in terza primaria studiamo storia studiamo il Big Bang e far vedere bambini prima di introdurre l'argomento utilizzando libro, fotocopio o quant'altro con un bel video oppure fare delle slide nelle quali i bambini riescono a vedere la sequenza la successione o fare anche in prima e in seconda magari dei piccoli giochi a fine argomento con dei programmi specifici che per esempio riescano a mettere in pratica quello che hanno studiato divertendosi Come si fa a capire se un alunno recepisce oppure no? Cioè su che base voi vi confrontate? 15 persone riuscite a tenerle sotto occhio comunque sono sempre 15 persone con 15 caratteri diversi con 15 eventuali problematiche differenti come fate a portarli tutti allo stesso livello sempre e comunque? Allora ovviamente dipende dalla classe quindi dipende ogni bambino a sé e ogni classe è un mondo a sé dipende io ad esempio avendo una classe di 12 bambini riesco ad andare avanti in modo anche abbastanza veloce perché comunque i bambini richiedono hanno proprio voglia di andare avanti e vedo che hanno recepito che hanno capito quando magari mi fermo ad un certo punto all'improvviso tornando un pochino più indietro loro sanno di cosa stiamo parlando e questo se tutti i bambini riescono ad aver acquisito l'argomento fatto precedentemente oppure se qualcosa non è stato chiaro viene subito fuori perché comunque se il bambino lo sa non vede l'ora di dirlo se in realtà ha qualche dubbio ha un po' di incertezza allora magari ci ritorniamo approfondiamo con un esercizio in più una fotocopia e vi stanno sempre le interrogazioni? Sì 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 assolutamente sì sì è un modo per mettere anche i bambini comunque di fronte alle loro responsabilità di fronte alle loro responsabilità sanno che quello è ciò che devono fare è ciò che devono studiare sanno che poi l'insegnante li ascolterà per vedere se appunto hanno capito hanno recepito l'argomento svolto e quindi anche una sana agitazione che è giusto piano piano metterle come è cambiata Andreini la scuola da quando te frequentavi la maestra di PIE fino al 2000 2005 parliamo di pochissimi anni qua a oggi allora no è cambiata tanto perché credo che ci sia una maggiore attenzione proprio nei confronti del bambino e questo sia l'aspetto più importante nel senso che la scuola adesso è una scuola che cerca di arrivare a tutti quindi il problema che si pone l'insegnante è quello di riuscire ad utilizzare tutti i canali possibili per catturare l'attenzione e la curiosità dei bambini perché tanto l'apprendimento è qualcosa che deve essere vissuto con gioia questo noi ne siamo profondamente convinti anche consapevoli perché tutti anche gli studi sulle neuroscienze dimostrano che è quella predisposizione d'animo giusta che si apprende con la paura con il rimprovero con il giudizio difficilmente si apprende magari si impara memoria magari c'è quello più bravo perché è più dotato ma l'apprendimento è qualcosa che come dire si sedimenta se uno è sereno è tranquillo ha fiducia in se stessi e quindi lo scopo della scuola soprattutto della scuola dell'infanzia della scuola primaria è proprio prima di tutto questo e credo che forse quando l'ho fatta io la scuola ancora non ci fosse fino in fondo questo tipo di consapevolezza come si riesce Ilaria allora è chiaro che è una formazione classica quella delle maestre pie no? sì molto ancorata degli schemi chiaramente non dico precostituiti ma l'indirizzo è molto chiaro però stiamo parlando di una generazione digitale? assolutamente e quindi? e quindi proprio perché è una generazione digitale cerchiamo di rimettere la base su quello che poi è il saper leggere da un libro siamo andati due ore fa in biblioteca proprio perché è giusto che i bambini riescano a sentire anche proprio toccando la cultura no? come si suol dire e noi cerchiamo di ogni maestra ha il suo metodo ma tutti abbiamo questo filo rosso che ci unisce che è affiancare e integrare la didattica classica che può essere fatta utilizzando la lavagna tradizionale con il gesso a nuove forme che potrebbe essere la lim che possono essere altre metodologie però sono iniezioni ecco non è o una o l'altra ora parliamo anche degli open day Chiara ci sono delle date ce le vuoi più o meno sì allora le iscrizioni come per tutti i gradi scolastici iniziano il 9 gennaio e si chiudono il 30 di gennaio noi abbiamo due date a gennaio che sono sabato 14 e sabato 21 dalle 10 alle 12 con accesso libero o su prenotazione quello come preferiscono le famiglie in cui possono venire a visitare la nostra scuola ci sarò io ci sarà parte del personale docente e accompagniamo le famiglie e proprio facendogli ecco capire quali sono i punti di forza e come sono gli ambienti scogliati uno si prenota e poi uno si prenota e poi noi diamo di solito 40-50 minuti a persona proprio dedicati perché molto spesso i genitori vengono proprio con i bambini e quindi ai bambini fa anche piacere vedere lo spazio giocare un po' con i giochi dell'infanzia o quelli più grandi guardare sedersi al banco per provare intanto in anteprima l'emozione del primo giorno di scuola però siamo disponibili come dire sempre a nostri recapiti ai nostri numeri di telefono e ci potete contattare con tranquillità e anche al di fuori di quegli orari ci mettiamo d'accordo per un appuntamento perché spesso le persone lavorano anche il sabato sono in difficoltà magari proprio in quelle due mattinate e allora il vostro rapporto con le scuole si chiama scuola privata no paritaria perdona te la facevi negli anni 80 io la facevo negli anni 70 capisci il vostro rapporto allora noi abbiamo un rapporto molto positivo dico la verità e questa è una cosa molto bella perché abbiamo un rapporto positivo con le altre scuole paritarie e le altre scuole dell'infanzia di Sansepolcro spesso ci incontriamo e devo dire che abbiamo scimentato ancora di più questi rapporti quando ci siamo trovati a dover gestire tutte quante la situazione covid perché questa nuova sfida e le difficoltà che comportava ci hanno come dire permesso anche un incontro maggiore condividere esperienze darci un supporto a volte proprio anche scambiarsi i numeri di telefono di personale che avevamo noi per poterlo mandare nelle altre scuole per delle supplenze e questa forma di collaborazione credo che sia molto bella perché abbiamo lo stesso intento inoltre come scuola noi collaboriamo anche con l'istituto San Francesco di Sales di Città di Castello anche con loro abbiamo un ottimo rapporto loro fanno parte di una rete di scuole molto come dire molto grande e questo aiuta anche me nel mio lavoro perché ho modo di confrontarmi con altri coordinatori scolastici che possono come dire darmi consigli anche proprio nello svolgere il mio lavoro perché anche noi come tutti i lavori siamo sempre alle prese con nuove leggi nuove situazioni nuove possibilità nuovi progetti quindi questa forma di collaborazione di rete credo che sia essenziale c'è un premio che io amo molto il premio Dionisio lo amo perché vengono premiate le eccellenze gli studenti che eccellono nel loro percorso formativo e allora ho notato che molti di quei ragazzi hanno fatto le maestre qui non voglio il motivo potrebbe essere fortuna non lo so però questo è il dato lo sapevi? sinceramente no e mi fa molto piacere scoprirlo sì perché diciamo che ogni anno quando ci sono le premiazioni noi da vecchi di Girova dei vicoli di Sansepolvo lo sappiamo sì poi lo avevi notato anche te lo avevo notato e un po' diciamo quando è possibile cerco sempre di partecipare perché come dici tu è veramente un bel momento vengono premiati i ragazzi delle scuole della scuola primaria della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado e quindi vedere generazioni di ragazzi che hanno fatto le scuole che hanno fatto le maestre pie arrivare a quel premio credo che sia un bel riconoscimento del loro percorso scolastico e anche per la nostra per la nostra scuola c'è una caratteristica importante della vostra scuola che è il dopo scuola per cinque giorni la settimana su questo voglio spezzare una lancia in favore di questa scuola perché molti genitori sono costretti lo dico apertamente a lasciare i bimbi per motivi di lavoro e in tanti lo possono considerare un parcheggio e invece no lì si studia si fanno i compiti e quindi c'è da lavorare anche nel dopo scuola su questo però vorrei che tu da insegnante ci spiegassi proprio che cosa succede dopo che i ragazzini e le ragazzine hanno mangiato c'è questa mentoretta di aspetto ludico e poi si torna esatto quando rientriamo in classe appunto per aver mangiato c'è un momento di svago dove i ragazzi bambini si rilassano giocano disegnano dopodiché con le insegnanti di classe la maggior parte delle volte o comunque sia sempre persone all'interno del team scolastico i bambini iniziano a fare i compiti iniziano a fare i compiti non vuol dire che l'insegnante fa i compiti insieme a loro l'insegnante è lì per sopportare i bambini cosa vuol dire vuol dire che soprattutto le prime classi certamente un aiuto i bambini di penso e i bambini di prima che ancora non sanno leggere magari una spiegazione in più ovviamente c'è però cerchiamo tendenzialmente di usare il doposcuola proprio per far raggiungere ai bambini un grado di autonomia che poi si ritroveranno quando faranno la scuola successiva e questo è un nostro un po' un cavallo di battaglia perché ogni classe piano piano a piccoli passi riesce a raggiungere la propria autonomia e questo fare il doposcuola significa fare i compiti da soli se poi c'è bisogno di un aiuto l'insegnante interviene chiaramente se c'è bisogno di un aiuto se c'è bisogno di un aiuto che non è che poi uno chiaramente deve star lì e saper mettere in pratica quello che avete fatto la mattina esatto ma non è che ecco noi lo facciamo prima che i bambini prima ci devono provare poi interveniamo noi in caso c'è anche una considerazione da fare chiara che è quella del passaggio dalla quinta alle medie allora in molti di noi vedono questa scuola come un ambiente protetto perdonami ma questo è come viene preparato il quinto anno che è l'ultimo anno che è quello poi più importante che è quello del distacco come viene preparato il ragazzo o la ragazza perché poi alla fine ho visto anche le insegnanti piangere cioè è normale io non mi metterei mai nei vostri panni come quello credo sia l'anno fondamentale sì allora è sicuramente un anno importante però come dire non è un anno a sé è sempre tutto all'interno di un percorso attraverso il dopo scuola per esempio soprattutto in terza quarta e quinta i bambini imparano anche ad avvantaggiarsi e questa è un'altra cosa importante che gli aiuterà nel passaggio alle medie in cui avranno a che fare con tante materie diverse e tanti professori a diversi in cui la programmazione del come dire dei compiti pomeridiani e anche delle loro giuste attività sportive perché noi vogliamo che i bambini vivano a 360 gradi anche le dimensioni della socialità dell'amicizia e i bambini imparano attraverso proprio il dopo scuola magari si finisce i compiti un quarto alle quattro invece di giocare la maestra dice guarda il diario inizia a guardare allora c'è storia c'è quella scheda c'è inglese e inizi i bambini iniziano piano piano proprio a programmarsi la settimana tutto questo facilita l'arrivo alle medie altra cosa che facilita è anche l'educazione perché noi da insegnanti lo vediamo e quelli delle medie lo vedono ancora di più cioè a volte vale più il saper stare in classe il comportarsi correttamente che non l'essere brillante perché sei più predisposti a rispiegare una cosa a venire incontro alle esigenze di un bambino che si comporta in maniera corretta che è disponibile che alza la mano che chiede di uscire piuttosto che a chi si comporta come dire meno bene o con maleducazione questi aspetti poi quando sono acquisiti loro se li ritrovano anche nelle scuole nelle scuole secondarie e per nostra esperienza è vero loro vengono in un ambiente protetto perché ecco un ambiente magari piccolo è un ambiente familiare in cui tutti i bambini conoscono tutte le figure di riferimento dalla cuoca in cucina alla coordinatrice scolastica e ci chiamano anche per nome come giusto come giusto che sia però sono anche forti di una esperienza scolastica che li prepara anche al passaggio al passaggio alla scuola secondaria per cui non è che ecco come dire arrivano e si sentono un po' spaisati o in difficoltà vediamo che fin da subito si integrano nelle classi molto bene questo passaggio noi lo prepariamo anche proprio portandoli fisicamente alla scuola secondaria invitandoli a partecipare agli open day facendo noi il passaggio di continuità con gli insegnanti e con i docenti della scuola secondaria perché andiamo a presentare i bambini bambino per bambino ai loro futuri docenti anche questi sono momenti veramente molto importanti di continuità ci piacerebbe che ce ne fossero ancora di più poi quando arriviamo tra il giugno e il settembre i tempi come dire sono sempre sono sempre pochi però essendo a Sansepolcro anche una piccola comunità ci capita anche poi di rincontrarci nella formazione anche per avere notizie per conoscere per sapere o di venire contattati per avere un'informazione in più quindi su questo diciamo cerchiamo di metterci ecco la maggior cura possibile però vediamo che i ragazzi si adattano veramente molto molto bene anche quando sono pochi della stessa classe a ritrovarsi insieme e le maestre le preparate al distacco? non si è mai pronte tra i tre anni comunque ma non si è mai pronte è una cosa curiosa come fa un insegnante a vederli che proprio sono figli a vederli a far come è chiaro no no assolutamente no perché comunque si instaura un rapporto cioè veramente come se fossero dei figli io ho 12 bambini che comunque ci passano la maggior parte del tempo io non ricordo i miei docenti universitari ricordo la mia maestra era la vezzosi di Sansepolcro ma perché inizia lì il distacco un po' dalla famiglia dalla famiglia e si entra nel mondo scuola e nel mondo scuola la prima figura di riferimento è la maestra bene abbiamo detto tutto c'è da dire altro io credo ecco che siamo stati esaustivi no abbiamo ancora un minuto come lo vogliamo giocare perché dovrebbero scegliere la vostra scuola rispetto ad altri vediamo facciamoci un po' di autopubblicità allora io credo per per l'accoglienza nel senso e per questa visione del bambino a 360 gradi perché è vero che c'è la maestra di classe ci sono gli specialisti però c'è un'intera comunità che guarda quel bambino e gli aspetti educativi passano attraverso tutte le figure all'interno del mondo scuola e crediamo anche in un'alleanza forte con i genitori e cerchiamo di curarla anche questa il più possibile con incontri dedicati con per esempio per i bambini della prima noi iniziamo sempre qualche giorno prima la scuola proprio per dedicare a loro dei momenti solo per loro proprio per accogliergli nel migliore dei modi fargli conoscere gli spazi favorire il gruppo la nascita anche dell'amicizia tra di loro anche tra chi non si conosce e che non ha frequentato l'infanzia alle maestre P ecco io credo per questa per questa attenzione e questa cura bene ti arrivino qua in primo piano preside coordinatrice scolastica grazie alla coordinatrice scolastica della scuola dell'infanzia e primaria maestre P di Sansepolcro non voglio commettere errori alla maestra Ilaria Gnassi grazie a tutti voi che ci avete seguito il primo piano torna lunedì prossimo buon proseguimento di sera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti